Al via la stagione dei saldi, passato il Natale, tutti in attesa della data X. L'appuntamento d'inizio anno per gli amanti dello shopping parte in Campania il prossimo 5 gennaio, per concludersi il 2 aprile. La data di partenza della stagione degli sconti è uguale per tutte le regioni, ad eccezione della Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta. Quella finale invece è variabile, compresa tra il 16 febbraio e il 31 marzo. Solo in Campania sono prolungati di qualche giorno. Chissà quanti italiani approfitteranno degli sconti per rinnovare il proprio guardaroba. Stando al Kodakons è un trend negativo ormai consolidato negli ultimi anni. Gli acquisti infatti durante il periodo degli sconti spiegano fanno registrare anche nel 2019 una pesante flessione. I consumatori hanno modificato profondamente le proprie abitudini spostando gli acquisti verso l'e-commerce che registra crescite delle vendite a due cifre e che può godere di sconti liberi tutto l'anno. In tale contesto, concludono dal Kodakons, i saldi di fine stagione appaiono del tutto obsoleti e andrebbero eliminati del tutto per fare posto sia iniziative come il Black Friday che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione degli sconti lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce. Per chi considera i saldi ancora un'opportunità di risparmio da non lasciarsi sfuggire deve stare comunque attento alle fregature che sono sempre dietro l'angolo. Per evitare di incappare in una truffa le associazioni dei consumatori e la Guardia di Finanza raccomandano innanzitutto di diffidare degli sconti superiori al 50%, di girare per negozi prima dei saldi così da poter confrontare i prezzi durante la stagione degli sconti, di assicurarsi che sulla merce vi sia il cartellino con sopra il vecchio prezzo e la percentuale di sconto.